E ora parliamo di aeromodellismo. Gli appassionati si sono dati appuntamento nel campo di atletica leggera di Venosa per la terza edizione di una manifestazione che ha richiamato anche un buon numero di curiosi. Sentiamo Roberto Vigiani. Sono arrivati dalla Campania, dalla Puglia e naturalmente dalla Basilicata per un appuntamento giunto alla terza edizione. Riproposto dopo 26 anni di assenza, la manifestazione è stata organizzata dal club Mario De Bernardi in collaborazione con Mormic e Avis. La motivazione è sempre quella di sensibilizzare l'opinione pubblica, i cittadini alla donazione del sangue, che è un mezzo per far sì che si possa donare per dare vita anche a chi ne ha bisogno. Una ventina gli appassionati di questi autentici gioiellini che hanno sfrecciato nel cielo di Venosa. L'aeromodellismo è qualcosa più di un hobby, è considerato un vero e proprio sport. E' uno sport perché comunque si vive con altre persone, si cresce, si conoscono persone nuove, si ha modo di migliorare e di esprimersi in assoluta libertà perché volando uno cerca di esprimere il proprio spirito libero. Aerei ed elicotteri con motori elettrici a scoppio, grandi, piccoli, capaci di autentiche acrobazie grazie all'abilità dei piloti, modellini davvero per tutti i gusti ma soprattutto per tutte le tasche. Per cominciare con un buon aeroplano elettrico si possono spendere anche poco più di 100-200 euro, cioè il costo di un banale cellulare, però ovviamente con sensazioni ed emozioni ben diverse da quello che potrà mai offrire un cellulare. Questo è un modello, costruzione in legno, tradizionale, ottimo per cominciare, con motore a scoppio, con miscela a base alcolica, ovviamente le caratteristiche di volo rispetto ad un elettrico sono diciamo peggiori perché vogliono più spazio, sono più pesanti, vogliono volare più velocemente. Gli elicotteri sono quelli che si sono diffusi maggiormente negli ultimi anni, sono migliorate molto le tecniche costruttive, quindi l'elicottero che in genere è una macchina molto complessa e instabile grazie all'elettronica, alla produzione di motori brushless, cioè motori senza spazio in grado di erogare tantissima potenza, di risparmiare batterie e di non scaldare, l'elicottero in grado di volare come se non più di un elicottero con motore a scoppio. La manovra che ha per effettare...